Un complesso di 7600 metri quadri, altro 30 metri e ispirato ai famosi mattoncini colorati che hanno stimolato la creatività dei bambini di tutto il mondo. La Lego House è già una realtà. Posata da poco alla prima pietra, la struttura aprirà al pubblico nel 2016 nella località di Billund, in Danimarca. Il centro sarà dotato di giardini, una caffetteria aree, gioco, un Lego Store e una zona che ospiterà spettacoli ed esibizioni per il pubblico, attesi più di 250.000 visitatori all'anno.